Si intitola HIV, parliamone ancora, la nuova iniziativa nell'ambito della campagna di sensibilizzazione per migliorare la qualità di vita delle persone con HIV. Oggi le terapie sono così efficaci che se assunte correttamente azzerano la carica virale e quindi il rischio di trasmettere l'infezione ad altre persone. Oggi le prospettive per la terapia dell'infezione di HIV sono molto cambiate rispetto al passato. Abbiamo terapie estremamente potenti, estremamente efficaci, estremamente tollerate dai pazienti. Una terapia iniziata in maniera molto precoce riesce ad abbattere in maniera completa la carica virale, bloccando il virus all'interno di alcune cellule nel nostro organismo. E questo che cosa produce? Da un lato il virus non riesce più a distruggere il nostro sistema immunitario, quindi blocca la progressione della malattia, rendendo incapace il virus di replicarsi impedisce che il virus possa essere trasmesso ad altre persone. Questo è il concetto che noi chiamiamo you equals you, che essenzialmente vuol dire che una persona che assume correttamente una terapia efficace non può più trasmettere il virus in nessun caso a nessun'altra persona. Per promuovere la conoscenza sull'importanza di una diagnosi precoce dell'HIV e sull'efficacia delle nuove terapie, in occasione del congresso ICAR sono stati presentati nuovi contenuti del sito hivneparliamo.it, tra cui storie e testimonianze di pazienti, è un podcast disponibile sulla piattaforma Spotify. Innanzitutto l'HIV è ancora una condizione che risente dello stigma, stigma che ancora si rifà a quel famoso alone viola di una pubblicità degli anni 90 e invece grazie a questa evidenza scientifica lo stigma non dovrebbe avere più ragione ad essere perché una persona appunto in trattamento non è in grado di trasmettere il virus, primo. E poi è importante perché bisogna invitare tutte le persone a testarsi, tutte le persone attive sessualmente, a testarsi periodicamente perché? Perché se uno dovesse scoprire di essere HIV positivo, intanto grazie alla terapia accede subito ai farmaci, si mette in cura e in breve tempo raggiunge appunto la non rilevabilità della carica virale e non si ammala, ma poi non trasmette il virus, quindi è anche una questione di salute pubblica.